Dopo le tappe di Pescara e Chieti a Proda per iniziativa del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo anche a Teramo, la mostra itinerante il rinascimento dei bambini, realizzata da Fondazione Banco Farmaceutico per il meeting di Rimini nel 2019 a cura di Mariella Carlotti. Questa mostra del rinascimento dei bambini che è già stata a Pescara e ha riscosso molto successo, ha un compito. E' quello cioè dimostrare come da un gesto di gratuità può nascere un'opera grandissima che dura da oltre 600 anni, perché questa è la storia dell'ospedale degli innocenti. Crediamo che attraverso questa storia, attraverso questi pannelli della mostra, si possa vedere tutto il percorso umano di bellezza che un'operazione del genere che era nata per sostenere i bambini trovatelli, i bambini che venivano abbandonati dalla famiglia, ha messo in piedi. Non dimentichiamo che l'ospedale degli innocenti è stato costruito da Brunelleschi, quindi farlo costruire da un archistar oggi sarebbe la stessa cosa, come farlo costruire da Renzo Piano, non so, piuttosto che da qualche altro architetto così famoso. E questo dice dell'attenzione che si aveva in quel tempo per le persone che avevano delle difficoltà. E ci piacerebbe che questa cosa oggi fosse di nuovo vera in quel modo. Esposizione che rientra nel progetto Scuole e Volontariato del CSV. Vedrà la partecipazione di 32 studenti delle scuole superiori del capoluogo, che opportunamente formati faranno da guida i visitatori negli otto giorni dal 22 al 30 ottobre, in cui l'esposizione occuperà la sala espositiva comunale di Via Nicola Palma. Sì, noi sostanzialmente esporremo a gruppi quello che è appunto la storia di un'importante entità che comunque anticipa il concetto del moderno orfanotrofio, dove bambini chiaramente meno fortunati venivano affidati appunto alle cure di membri del clero sostanzialmente, che si occupavano anche dell'alfabetizzazione e dell'educazione di questi bambini, che quindi venivano reinseriti nella società in maniera uguale a un cittadino chiaramente più fortunato. Quindi è un'opera di carità che abbraccia il messaggio della povertà evangelica e dell'aiuto al prossimo.